Sensibilizzare con un docufilm le coscienze sulla tematica del fiume Sarmo, un fiume malato e incubatore di malattie e di morte. Il 14 luglio scorso la proiezione nella casa del cittadino di Piazzadoria fino all'ultima goccia, curato e promosso dall'associazione Controcorrente e da fronte civile Stay Angry. Presente alla proiezione del film il sindaco Giosi Gerardo della Ragione con il suo modello Bacoli. Il 14 luglio abbiamo fatto un evento per sensibilizzare un po' la cittadinanza ancora di più, oltre le immagini catastrofiche che vediamo tutti i giorni quando succedono gli intemperie, gli allagamenti e quant'altro, abbiamo voluto creare un evento che potesse ancora di più sensibilizzare soprattutto le persone che non vivono prettamente questo disagio. Il 14 luglio è avvenuto questo evento con vari ospiti delle varie associazioni che rappresentano il territorio come Libera, come Le Gambiente, come altre associazioni del territorio, ma anche un comitato cittadino che si è formato da poco nelle periferie del nord di Angri. E il tutto incorniciato con l'intervento del sindaco di Bacoli, Giosi della Ragione, che sembra un territorio così distante, ma è molto vicino, perché anche lui vive in una città bagnata da mari, da fiumi e da due laghi, e quindi di conseguenza anche lui ha dovuto affrontare queste tematiche dell'inquinamento. Insomma, abbiamo voluto portare qui un esempio di battaglia politica e anche dal punto di vista sociale per il disinquinamento delle acque. Quindi è stato un ottimo intervento, un evento che ha dato delle buone risposte. Fare rete per evidenziare i gravi problemi che vivono i cittadini nelle aree alluvionali. Questo è uno degli obiettivi precipi del movimento Stay Angry, che afferma tramite il suo portavoce Somma di voler tenere mediaticamente viva l'attenzione sul problema che resta ancora oggi parzialmente irrisolto. Senza personalismi abbiamo dato voce a tutti i cittadini con varie PEC, comunicazioni, abbiamo inviato un reportage di foto e video dei vari disastri. E su questo percorso abbiamo trovato un bel po' di associazioni e di compagini che si sono affiancate. Insomma, abbiamo fatto rete per poter portare questo problema anche sui tavoli amministrativi, locali, ma anche quelli regionali. Noi puntiamo molto a portare a livello mediatico questo problema perché è un problema che accomuna un po' tutti. Anche sulla scia di quello che è successo in Emilia Romagna non vogliamo che si verifichi qualcosa di simile. E quindi ci muoviamo per tempo per poter prevenire e sollecitare le amministrazioni e anche gli enti pubblici a prendere tutte le misure necessarie per poter portare avanti un programma di disinquinamento e anche di abbassamento del rischio idrogeologico che è un problema atavico nelle zone delle periferie. Grazie 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 Grazie